Quanto è figo questo angolino? Cosa ne pensate? Quanto è bello questo angolo di studio? Mamma mia, che roba! E sono solo tre! Avete voglia di guardare altri sketch fatti negli anni? Beh, non in questo video, ma se avete voglia scrivete uno nei comment e magari un giorno ve li faccio vedere. Intanto ben ritrovati su Fumetti e Parole, io sono Igor e oggi parliamo di acquisti. Sì, siete pronti? Ci sono delle cosine molto interessanti. Non 50.000 cose, ma alcune di queste mi garbano un bel po'. Quindi iniziamo subito. Wow, mi abbasso e prendo il primo volume. Numero 25, Samuel Stern, copertina Spectacularis. Qualcuno faceva notare su Instagram, un po' su Facebook, guardate l'effetto ruggine. Che figata, che figata! Allora, l'angelo del focolare. Qui abbiamo tante scene con degli sfondi neri, guardate un po'. Questa cosa un po' orrorifica, non mi dispiace per niente, veramente figo. Il buon Furnò l'ha fatto più volte su Dylan Dogg, mi garba un casino. Altra cosa, guardate quanto è bella la copertina del numero 26, spettacolare. Poi qua, nuovamente, il primo cartonato a colori è di nuovo il Dary Lang. Qui abbiamo... Ah, ecco perché Lisa Salsi, mi ricordavo questo tratto particolare, molto particolare. Non vedo l'ora di leggermi questa storia, ma in realtà lo farò fra... Fatemi fare i calcoli. Almeno un mesetto, perché io non ho letto tutto l'ultimo ciclo. Insomma, 21, 22, 23, 24... Non li ho neanche letto. Ho letto il 21, poi mi sono fermato perché volevo godermelo appieno. Così facendo ho accumulato ritardo. E quindi mi dovrò leggere 5 volumi di Samuestern di filato, farò un bel casino. Però sono contento di continuare l'acquisto di questa serie. Poi vado avanti. Allora, so già che di questo farò un video perché ho avuto qualche parere quando mi sono confrontato con Iaio, ma non solo. Anche con altri. Poi ho visto qualche video su YouTube. Mi sto riferendo a Nick Rider. Questo è il numero 1. Avevo detto da subito, sin da quando è stato regalato il numero 0 nelle fumetterie nel dicembre 2020. Avevo detto che mi interessava l'acquisto almeno del numero 1. Probabilmente se... Al di là dei disegni di freghieri che sono fighissimi. Ma se mi piacerà, probabilmente continuerò. Sono 10 numeri. Molto interessante. Copertina, disegno bello, colorazione, lo schema un po' grafico, il layout ricorda troppo il vecchio Nick Rider. Ci piacerà, non ci piacerà? Sono molto molto curioso. Va bene, ma secondo me tantissimi di voi lo hanno acquistato. Poi procediamo con... Ah, queste qua. Allora, non mi ricordo se nei video passati, poi dal passaggio da un canale all'altro qualche casino, probabilmente l'ho fatto. Però non ricordo se vi ho portato gli acquisti delle storie del West. Vi confermo che sto continuando ad acquistarlo. E quindi questo è il numero 31. Copertina spettacolo. Questo è il numero 32. E in questi giorni, anzi con precisione, il 4 dicembre, uscirà il numero 33. Allora, se mi faccio i calcoli, parliamo di 6,90€ a botta. Siamo più o meno a metà. Mi mancano ancora 36 numeri per 6,90€. Mio Dio quanti soldi sono. Però è anche vero che le uscite mensili consentono di ammortizzare un po'. Mi sta piacendo tanto, tanto, tanto. Una scrittura datata, un po' vecchiotta. Diciamo che la sceneggiatura è banale. Ma il contenuto, quindi il soggetto di Gino D'Antonio & Company, sono veramente colpito dai riferimenti storici. E poi i colori sono spettacolari. E poi, in più, mio padre adora questa serie. Quindi, a prescindere, anche se non mi piacesse al top, io la prendo e poi la regalo, come già sapete. Quindi, nel prossimo video acquisti, sicuramente ci sarà il numero 33. Vado avanti. Vado avanti perché qui ci sono dei disegni spaziali. Prima vi faccio vedere qualche tavola e poi, chissà, se riuscite a beccare velocemente il titolo del volume. Eccola qua. Vediamo qua. Uno incappucciato. Sto parlando di Batman. Guardiamo che figata pazzesca. Questo è il numero 34 della serie Supereroi e le leggende DC. Il titolo è Morte della famiglia. Una delle storie cult, veramente di riferimento, del Cavaliere Oscuro. Spettacolare, spettacolare. Disegni incredibili. Capullo mitico. Questo veramente me lo voglio godere. Poi vi dirò qualcosa a fine del video. Una novità che mi riguarda personalmente. Chissà, magari questa cosa riuscirà a farmi andare un po' avanti con le letture. Ma rimaniamo a dopo. Perché ho l'ultimo volume da prendere. E mi riferisco ad una roba che è uno speciale. Il numero 3. Ed è un team up. Sto parlando di Zagor che incontra Tex Wheeler o viceversa. Le scamotage per farli incontrare, grazie al signore, non sono multiniversi e stronzate varie. O invenzioni di... Portali e quant'altro, oppure draghi magici, meno male. Semplicemente l'anagrafica li ha fatti incontrare. Perché qui abbiamo uno Zagor, forse si vede, con i capelli un po' brizzolati. Quindi uno Zagor cinquantenne ma ancora bello tosto. E un Tex, invece, giovane. Quindi un Tex Wheeler. L'alternativa sarebbe stata quello di incontrare un Tex, come lo conosciamo oggi nella serie regolare. E uno Zagor settantenne, settantacinquenne. È possibile farlo. Tra l'altro, se non ho capito male, Boselli dice anche che chissà un giorno, una delle sue ultime storie potrebbe essere proprio quella. Però non penso che in quel caso si parli di scontri. Piuttosto che tanta azione. Perché, insomma, un settantacinquenne, per carità, eroe, sì. Però vecchietto potrebbe rendere poco. Va bene. Mi fa ridere perché vedere qua i capelli un po' brizzolati mi fa un po' impressione. Allora, qui comunque, secondo me, prima ancora di leggerlo, è un azzardo questa cosa. È un azzardo, è un esperimento, è una volontà editoriale importantissima. È una roba che tutti i lettori chiedono. Ma fidatevi, tutti quanti romperanno le scatole con sta roba. Tutti, tutti. Non ce ne sarà uno che sarà contento al 100%. Se non i fanatici, quelli che qualsiasi cosa viene prodotta di Tex, sbavano. Qui abbiamo Boselli, ovviamente, soggetto sceneggiatura. Piccinelli ai disegni. Non so se stiamo parlando del primo arrivato. Dotti alla copertina. Beh, questo lo sapevamo. Lettering Luca Corda. Quindi, già sui disegni, top. Ok? Perché Piccinelli, che è il copertinista di Zagora, è veramente bravissimo. Spettacolare. Poi, la storia, ripeto, non l'ho letta, ma non vi nascondo che qualche video su YouTube qua e là l'ho trovato. Ce ne sono un paio, ma pure tanto arrabbiati. Ragazzi, ma so fumetti. Ho capito che li amate. Ho capito che vi mandano un brodo di giugiole e vorreste la storia perfetta. Ma dove la fai, la fai. Qua, sbagli. Come la combini qua? Un errore lo fai. Semplicemente perché ti aspetti che non ci sia quell'incontro, quella parola, quel lettering nel balloon. Qualcuno si riferiva al culo spellacchiato di Zagor. In realtà è un colpo di luce che fa sì che sulle natiche ci sia un po' di bianco. Qualcuno dice, ma se Zagor colpisce Tex e viceversa. Perdi l'immagine di uno, perdi l'immagine dell'altro. Fermi. Fermi. Non mi fate arrabbiare. Leggetevolo. E poi dite, mi piace, non mi piace. Io ne parlerò sicuramente. Non so se da solo con qualcun altro. Ne voglio parlare perché vorrei un po' stemperare questa roba. Posso anche dire che mi fa schifo la storia. Ma il fatto che una casa editrice abbia voglia di fare un team up del genere, bom, lasciamo io lo passare. Se voi pensate ai comics, ragazzi, ma questi fanno Rebirth ogni tre giorni. Fanno delle rinascite, crisi degli universi, piuttosto che crossover, team up, incontri, uomini, donne, cambi sesso. E qui due eroi che conosciamo da una vita, che amiamo, si incontrano e rompiamo le scatole. E state buoni. Comunque, sono curioso di leggerlo. Poi magari anche io sarò un po' infervorato. Non lo so, non lo so. Farò di tutto per evitarlo. Anche pagina un po' spiegazzata, va bene. Comunque, guardate che immagini. Vi lascio così, con le immagini piccinelli. Dai, ho terminato per oggi. Grazie mille per essere arrivati fino qua. Ci leggiamo nei comment. Fatemi sapere se gli acquisti vi piacciono oppure no. E se non siete iscritti al canale, assolutamente correte perché dobbiamo arrivare velocemente ai 500. E sì, perché non ve l'ho detto. Faccio il video acquisti. Ai 500 faccio il video acquisti. Vi lascio. Con i fumetti ho smesso. Quindi, se invece volete sentire qualcosina che mi riguarda personalmente, rimanete. Altrimenti, ciao a tutti. Allora, io a breve dovrei operarmi al ginocchio. Questa è una roba che mi porto avanti da anni, anni, anni. Quindi, finalmente, riuscirò, non dico a coronare un sogno perché così non è, però potrò probabilmente risolvere i problemi della mia deambulazione. Detto questo, farò un bel po' di tempo a casa e avrò un sacco di tempo per leggere. Per carità, poi, insomma, non potrò leggere da mattina alla sera. Ecco, mi opero al ginocchio, non al cervello. Quindi, sicuramente, cercherò nel più breve tempo possibile di rientrare al lavoro, di camminare, di essere nuovamente utile a me stesso e alla società e alla mia famiglia, ma... Eh, qualche fumetto me lo leggerò. Stavo pensando di dedicare il mio tempo a tante cose che, lì, ce l'ho lì davanti. Madonna, quanta roba c'è da leggere, un casino. Però, stavo ragionando, incominciare a leggere i supereroi, le leggende di Sì, quindi tutte le storie legate a Batman, mi stuzzica parecchio. Probabilmente il periodo di Natale è quello che mi darà più, insomma, soddisfazione da questo punto di vista. E quindi, ci vediamo presto, chiacchieremo insieme nel Cavaliere Oscuro. Ciao ragazzi, a presto!